Questa è la rivincita degli home studio, anche Ed Sheeran registra con attrezzatura da poveri. Andiamo a vedere. Ragazzi bentornati in Sardegna e soprattutto bentornati ad un nuovo video. Questo è uno di quelli che mi piacciono particolarmente perché una volta ogni tanto esce uno di quei video che prende tutti i concetti che io vi butto in faccia per tutto l'anno per cui mi prendo le peggio critiche e li conferma tutti in un colpo. E se c'è una cosa che mi piace è avere ragione. Infatti giusto venerdì Ed Sheeran ha pubblicato un nuovo video musicale, o meglio una nuova versione del suo singolo Bad Habits, che però mostra alcuni interessanti BTS dietro le quinte di come è stata scritta e registrata la canzone. E quindi eccoci qua, ho pensato di registrarlo assieme a voi, ma prima vi invito ad iscrivervi al canale, se non lo siete già, attivare la campanella, mettere like e soprattutto lasciare un commento. Commentare stavolta è importante perché è un argomento caldo, è un argomento che so che genererà discussione, quindi mi piacerebbe sapere la vostra in maniera sempre pacata ed educata. Ma soprattutto vi invito a rimanere fino alla fine del video perché vi mostrerò come poter riprodurre al 90% questo setup per meno della metà del prezzo. Quindi occhio. Ok, già da questo primo frame possiamo capire il 90% del contesto di quello che sta succedendo. Intanto non sono in uno studio di registrazione, Ed stesso ha scritto su Instagram in un post. Abbiamo affittato una vecchia casa di campagna pensando che il cambio di scenario da un vero studio avrebbe potuto aiutarci a sviluppare la creatività, a scrivere canzoni più interessanti. Bad Habits è uscita per caso ed è stata una canzone divertentissima da fare, da creare. Non avrei mai immaginato che potesse diventare il primo singolo dell'album. Quindi probabilmente un po' causa pandemia, un po' per favorire la creatività, hanno registrato in questa casa. E da qui vedremo come la scelta di registrare in casa e non in studio andrà ad influenzare tutta la strumentazione che andranno ad usare durante il pezzo. Allora, intanto vediamo che il setup è super, 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 super minimale. Il computer è un MacBook Pro da 15 pollici con touchbar. Credo sia una touchbar quella lì, non vedo bene dal video. Proviamo ad ingrandire. Sì, mi sembra una touchbar. Il formato è il 15 o il 16 pollici perché le casse ai lati sono strette e la tastiera prende spazio. Stanno usando Logic, quello è Logic. Quindi finora niente di che lato computer. La tastiera MIDI che sta usando il tizio che credo sia Fred again, perdonatemi se è sbagliato, è una Korg, credo sia la Micro Keys, è quella da 52 tasti, forse 32 tasti, con i due slider per le automazioni. Molto semplice anche quella, costa un centinaio di euro quando è in offerta. E l'altra tastiera, quella appoggiata in verticale, mi sembra quella della Native Instruments, ma non vorrei sbagliarmi. Simpatico vedere che c'è il gel igienizzante per le mani sul tavolino, ma a noi non ci interessa. Andiamo avanti con l'attrezzatura. La scheda audio è anche una scelta molto interessante che hanno fatto. Quella è la Scarlett 4i4. Al 99% è quella di terza generazione, per come sono disposte le cose i led, anche dal colore. Ed è un'ottima scheda audio. Come potete vedere non ci sono Apollo, non c'è UAD, non c'è... Hanno preso una Focusrite. Ok, dopo vedremo perché. Comunque è una scheda audio di tutto rispetto, 4 ingressi, 4 uscite, MIDI, in e out, possibilità di avere pad e instrument su tutti i canali. Una scheda audio validissima. Altra scelta super interessante, il microfono che hanno usato, uno Shure SM7B, per tutti quelli che associano studio professionale, microfono a condensatore, no, qui hanno usato un dinamico, un signor dinamico, costa sui 300-350 euro. Notate che ci sta cantando praticamente attaccato, quella è una delle caratteristiche dell'SM7B, ci puoi cantare super attaccato a una capsula che lascia molto spazio, molta distanza tra il filtro e appunto la capsula. Ed è quello che vi dicevo prima, conseguenza del fatto di aver scelto di registrare in una casa, quindi in un ambiente acustico non trattato. Scelta molto intelligente. Quindi assolutamente non disdegnate i microfoni dinamici se registrate in cameretta, in bagno, in ambienti che suonano da schifo. È la soluzione migliore probabilmente. Se c'è la gente che vi dice no, ma io registro a casa, però le mie registrazioni sono pro perché io in cameretta uso un Neumann U87, mandatelo a fu un culo, sì, bellissimo microfono, l'U87. In casa, no, assolutamente no. E questo è tutto. Come vedete, è un setup estremamente minimale, estremamente economico, qualcosa che più un studio di così non si può. La casa, certo, è una signora casa, è una signora villa, però sempre una casa rimane. Non è trattata, non c'è acustica, niente. È un soggiorno. Una cosa che ho notato è che è tutto in legno, solo quello. Ma adesso andiamo alla parte un po' più frezzante di tutto il video. Come possiamo riprodurre un setup del genere in casa e soprattutto spendendo meno della metà. Come computer, quello che avete in casa andrà benissimo. come do, quella che preferite purché sia gratuita o economica. La tastiera, lui usa una Korg, sempre della Korg, molto più piccola, però c'è la Nano Keys che sta sui 50 euro. Molto carina, il feeling dei tasti non mi fa impazzire. Se volete qualcosa di un po' più carino c'è la Alesis, c'è la Alesis V-mini, la Alesis Q-mini, oppure vi consiglio anche tutta la linea della Akai, la MPK, sta sugli 80 euro, quelle che vi ho detto prima intorno ai 50. Sono tutte molto valide, hanno parecchi controlli. La Alesis V-mini e l'Akai hanno anche i pad per farci le batterie. Molto carine, io ho la Alesis e mi trovo benissimo. Come scheda audio, lui usa una Scarlett 4i4, se a voi serve un solo ingresso, potete benissimo prendere una Scarlett solo. la 4i4 costa circa 200 euro, se non vado male, la Scarlett solo sui 90 e avete risolto qualsiasi vostro problema. Come cuffie vi consiglio qualsiasi audio tecnica dalle M40 in su e andate benissimo sia per cantare che per mixare. Almeno io mi trovo bene a mixare sulle cuffie chiuse. Se cercate qualcosa di aperto potete vedere anche le Superlux 681 oppure il nuovo modello che però se ricordo male faceva un po' cagare. Restate sulle 681 Evo. Cosa ci resta è il microfono. Come microfono io vi consiglio lo Shure SM57. Se vi ricordate un anno fa avevo anche fatto un video su come far suonare l'SM57 esattamente come un SM7B o quasi. Ok? Quindi se vi va recuperatevi quel video. SM57 90 euro, Scarlett Solo 90 euro tastierina 50 euro siamo a 180 220 230 cuffie mettiamoci un'altra settantina di euro siamo sui 300 euro avete pagato l'intero setup meno del microfono che usa lui. Direi con buon compromesso. Io direi che da questo video ci sono due cose fondamentali che si possono tirare fuori. Uno che non è necessario sempre lavorare in studio che di necessità si fa virtù lui per pandemia per creatività ha scelto di lavorare in casa e si è adattato semplicemente ha fatto delle scelte precise oculate sensate per quanto riguarda i microfoni l'ascolto eccetera 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 chiaramente attenzione noi diamo per scontato che questo sia tutto vero perché noi in questo video vediamo soltanto lui registrare la voce ma poi andiamoci a vedere su discogs tutta la lista di persone che hanno contribuito alla produzione e alla scrittura e tutti gli studi a cui è stata affidata la produzione e il mastering di questa canzone che tra l'altro è stata masterizzata al Metropolis a Londra quindi si va bene registrare in casa va bene registrare con poco ma poi vedete come il suono pro non lo fa l'attrezzatura con cui registri ma piuttosto lo fanno le competenze di chi lavora a quel pezzo e qui per competenze si intende tutto a 360 gradi da Ed Sheeran che è un mostro nello scrivere dal produttore che è un mostro nel produrre nell'arrangiare e dai fonici e dai mix engineer che sono stati chiaramente dei mostri a mixare quello che loro gli hanno passato quindi concentratevi sempre solo sulle competenze non spendete tutto quello che avete in attrezzatura per questo video è tutto io vi ricordo di iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video di attivare la campanella di lasciare un like e di scrivermi nei commenti la vostra opinione perché so che da ora ci saranno 10.000 opinioni discordanti e io però le voglio sentire tutte e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao